È una ricostruzione nuova, interattiva, sembra di essere live in un videogioco e potersi muoverli all'interno. Tra poco con questo tour operator saremo i primi a poter dare una navigazione, una visita del Colosseo completa. Il nostro tour operator si chiama infatti Enchant Erescent. Lei sta vedendo il Colosseo ricostruito in 3D e navigabile direttamente da visore come se fosse realmente lì presente attraverso un'applicazione VR che abbiamo realizzato e stiamo fruendo durante questa manifestazione. È un'anteprima perché tra pochi giorni il Colosseo potrà essere visitato con una guida turistica autorizzata e questa nuova audioguida che darà supporto a una guida turistica per far rivedere ai turisti e ai visitatori del Colosseo come era una volta. In questo momento vedo un bellissimo combattimento tra due gladiatori e sono circondata dai leoni che mi danno l'impressione che realmente mi stanno azzanando, quindi è una sensazione bellissima. Sono qui, è tutto, sembra tutto vero. Grazie a tutti.